Sono Marco Pasti, faccio l'agricoltore in provincia di Venezia, comune di Araclea. L'agricoltura conservativa è un termine molto ampio che comprende varie tecniche diverse. Qui in Veneto abbiamo soprattutto sviluppato o provato la tecnica del no-till, quindi della zero lavorazione. Una quindicina di anni fa abbiamo incominciato a fare delle prove di agricoltura su sodo, sia c'è l'autunno-vernini che colture primaverili, in particolar modo maese e soia, perché vedevamo che nel resto del mondo era una tecnica che andava espandendo, soprattutto in Sud America ma anche in Nord America. Da qualche anno di successi alterni, nel senso che alcuni raccolti erano buoni e altri meno, ho deciso di impostare una prova per confrontare due tecniche e capire se c'era un vantaggio o meno produttivo. Ho quindi impostato questo appezzamento che sono 12 ettari, tre parcelle su sodo, sei su convenzionale e tre su sodo e una rotazione triennale. Orzo, soia secondo raccolto, colture di copertura, mais, colture di copertura, soia di primo raccolto. Dopo la soia di primo raccolto si torna all'orzo. Il primo anno la produzione è stata abbastanza buona, poi siamo andati via calando, dipende molto anche dalle stagioni e siamo ancora comunque con un certo gap rispetto all'agricoltura convenzionale. Quindi abbiamo ancora una produzione che per il mais e soia è di circa un 15-20% inferiore e una produzione che per il mais e soia è di circa un 5-10% inferiore. Siccome era noto che avevo questa sperimentazione, mi hanno chiesto di entrare nel progetto del soide perché c'era una storicità più lunga di altre aziende e la prova impostata è anche un confronto interessante per capire l'andamento della coltivazione. Se è vero che ridurre la compatazione del terreno, il capestì o con le macchine è importante dappertutto, lo è particolarmente nelle cotture su sodo in cui poi non faccio lavorazione. Il terreno limoso che caratterizza molti suoli qui in Veneto non aumenta le dimensioni e non si ritira essiccandosi. Quindi il terreno limoso è un po' più difficile da gestire sul sodo. Può essere utile a volte usare dei compatatori che non muovono il terreno ma solo rompono la compatazione. Questo chiaramente è un aspetto molto importante da considerare quando ci si approccia a questo tipo di agricoltura. Negli anni abbiamo via via migliorato, abbiamo modificato parecchio. Ad esempio io non usavo geodisinfestante sulla cultura convenzionale perché l'attacco di insetti era comunque marginale, mentre sulla cultura su sodo ho dovuto inserire il geodisinfestante perché la quantità di insetti che si trovano nel terreno è molto maggiore e quindi anche quelli che attaccano il seme che sta germinando è maggiore. Poi c'è il problema delle limacce perché sono nelle nate umidi come l'anno scorso molto aggressive e quindi bisogna usare esca. E poi l'altro problema che c'è è quello delle resistenze perché il controllo degli infestanti è fatto solo con l'uso dei mezzi chimici perché non c'è controllo meccanico e quindi in mancanza di una rotazione dei principi attivi si ha più possibilità di sviluppare resistenze. La difficoltà sta anche nel fatto che il diserbo di preemergenza non sempre è efficace perché come vedete abbiamo un terreno che è coperto di residui e quindi spesso il principio attivo viene scarmato e non arriva sul suolo, sul terreno dove c'è il seme che germina. Quindi il preemergenza è in qualche modo meno efficace che non nel terreno convenzionale e in postemergenza abbiamo pochi principi attivi. L'uso della chimica oggi viene spesso demonizzato come il massimo dei mali ma secondo me un uso della chimica che sia ben gestito ha più vantaggi che svantaggi. L'agricoltura conservativa ha come scopo quella di rendere l'agricoltura più ecocompatibile e meno onerosa per l'agricoltore. Quindi meno onerosa e anche più competitiva perché se ho meno costi di produzione ho anche più competitività nel mercato globale. Ovviamente quello che interessa il mercato è la qualità del prodotto quindi la qualità soprattutto sanitaria del mais perché oggi l'emergenza principale è il problema delle microtossine. Secondo me è importante avere una sperimentazione ampia e diffusa perché non è una tecnica facile perché ho pochi strumenti e devo usarli bene. Per cui diciamo che è importante mettere bene appunto la tecnica per ogni tipo di terreno, per ogni tipo di ambiente e saperla poi divulgare. Quindi secondo me ci sono ancora spazi per migliorare. L'ELPSOIL va un po' in questa direzione. L'ELPSOIL 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 L'ELPSOIL